Quanta passione è la vita, quanta passione, è una storia infinita, quanta passione. Questo ragazzo dell'amore si divertiva a giocare con me. Dopo 17 anni Adriano Celentano è tornato su un palcoscenico a cantare, lo ha fatto a fini benefici per Genova, lo ha fatto cantando il ragazzo della Via Gluck, la sua storia, lo ha fatto con Don Gallo, Beppe Grillo, Biagio Antonacci, Gino Paoli, lo ha fatto col cuore e la sua voce, ha rinnovato la voglia in tutti quelli che lo amano di ritrovarlo in concerto, lo ha fatto con lo stesso cuore, la stessa umanità, la stessa rabbia con cui ha cantato nel suo nuovo album, Facciamo finta che sia vero. Cambio di scena, Carlo Costa.